È stato festeggiato quest'oggi l'anniversario del 145esimo anno dalla Fondazione del Corpo della Polizia Municipale. Nella sala preconsigliare del municipio si sono susseguiti gli interventi del vice sindaco con delega alla Polizia Municipale Eugenio Fusignani, del comandante dell'APM Andrea Giacomini, del sindaco Michele De Pascale e del prefetto Francesco Russo. Durante gli interventi è stato sottolineato il costante impegno dei 175 agenti della Polizia Municipale di Ravenna, 86 donne e 89 uomini, al fianco dei cittadini, nella lotta al degrado, nella lotta alla contraffazione e nella sicurezza stradale, ma anche in occasione di eventi pubblici, per la sicurezza urbana integrata e anche per i servizi di educazione alla legalità. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti al personale distintosi in servizio e sono state sintetizzate le principali attività svolte nel 2017. Sì, 145 anni sono un traguardo ragguardevole, è un onore poter essere il comandante in occasione di una celebrazione così importante. È una festa, festa per i nostri lavoratori, gli uomini e le donne della Polizia Municipale, una festa per la città, alla quale dedichiamo il nostro sforzo, il nostro servizio, dalla quale chiediamo di avere un po' di affetto e un po' di amore, cercando di meritarlo tutti i giorni con il nostro impegno, con il nostro sacrificio, raccogliendo le istanze dei cittadini. Appunto, la vicinanza ai cittadini è stata ribadita più volte e sottolineata più volte. Sì, è uno degli aspetti più qualificanti del compito che spetta ad una polizia locale, quella di essere al fianco del cittadino e non un suo antagonista. In questo cerchiamo di guardare al passato, alla storia, cercando di imparare proprio dalle tradizioni. Tutti ricordano con affetto i tempi in cui il vigile urbano era una persona conosciuta tra la gente, alla quale ci si rivolgeva con amicizia, con fiducia. Questi valori devono sopravvivere, ad essi ci dobbiamo ispirare, e faremo tutto il possibile per promoverli e fare in modo che siano valori contemporanei. Un'occasione anche per fare un bilancio, sono stati dati dei dati importanti sul lavoro compiuto dalla Polizia Municipale e un numero sicuramente importante anche il numero degli uomini e delle donne che lavorano con lei che adesso aumenta. Sì, il corpo di Polizia Municipale di Ravenna è effettivamente in crescita, è dotato di un dispositivo in grado di affrontare le esigenze della città ed è fonte di soddisfazione, orgoglio poter leggere dati statistici così importanti che ci vedono ovviamente al fianco delle forze di Polizia a competenza generale, di quelli che sono gli attori principali della scena della sicurezza. Però al loro fianco vogliamo esserci con un ruolo importante, con un ruolo che sia all'altezza del compito affidatoci, senza complessi di inferiorità e senza sottrarci a tutte le prerogative che oggi l'ordinamento riserva alle polizie locali. Prossimi obiettivi? Adesso ci aspetta una stagione estiva in cui vorremmo confermare e migliorare gli obiettivi conseguiti lo scorso anno con il contrasto all'abusivismo commerciale. Vogliamo definitivamente riportare la sicurezza nell'area stazione della città, nel centro città restituire a turisti e fruitori la massima serena tranquillità, anche evitando presenze fastidiose come possono essere quelle dei questuanti o di venditori abusivi. Questo lo faremo con servizi tradizionali quali la pattuglia a piedi, la pattuglia in bici e inoltre sarà una novità quella di far lavorare i segue anche nella città, diversamente da quanto fatto precedentemente dove lavoravano soltanto sulla nostra spiaggia. Ovviamente in spiaggia saremo presenti con i nuovi veicoli acquistati che sono i quad, dei quadricicli a motore che lavoreranno nelle vie retrodunali per poter prontamente intervenire in occasione delle esigenze che si dovessero presentare in spiaggia.